Momenti di tensione all'MT nella tredicesima strada della zona industriale di Catania, dove un dipendente, imbracciando un fucile e minacciando i presenti, ha impedito loro di entrare nel deposito aziendale. Subito arrivate diverse volanti della polizia, dove l'uomo si trovava in evidente stato di escandescenza, dichiarando di voler assolutamente parlare con il direttore dell'MT, altrimenti avrebbe ammazzato tutti. L'uomo inoltre aveva con sé un pitbull e aveva parcheggiato la propria autovettura di fronte all'ingresso della piazzale dell'MT, impedendo l'accesso e l'uscita dei mezzi. I poliziotti hanno intrapreso un dialogo per cercare di riportarlo alla calma e fargli consegnare l'alma. Approfittando di un momento di distrazione, lo hanno bloccato da dietro e lo hanno disarmato. E' stato successivamente identificato quale 49enne catenese, tratto in arresto per esistenza aggravata, lesioni e oltraggio a pubblico ufficiale. Nonché denunciato, è stato di libertà per interruzione di pubblico servizio. Grazie. Grazie.